Avanti con le riaperture ma con gradualità. Nei giorni scorsi la cabina di regia ha stabilito il piano con nuove orarie e disposizioni per le attività, molte delle quali fermero mai da mesi. Tra le novità c'è quella del coprifuoco che accontenta, anche se di poco, clienti e imprenditori. E così da due giorni in tutte le regioni in zona gialla è consentito uscire fino alle 23. Per avere un'ora in più di circolazione notturna bisognerà attendere il 7 giugno, quando il coprifuoco verrà posticipato a mezzanotte. Il 21 giugno poi sarà abolito, sempre se il calo di ricovere i contagi continuerà a seguire l'andamento attuale. Sono molto contenta anche perché eravamo stanchi tutti e quindi è un piacere ritornare alla vita normale. Credo che ce lo meritiamo perché tutto sommato, a parte qualche piccola defaianza, siamo stati abbastanza bravi. Deve essere regolato e controllato soprattutto. Anche il discorso del coprifuoco serviranno comunque controlli? Controlli, sì, ci vogliono i controlli perché senza controlli i giovani troppi ammassamenti, troppi, troppi. Lei è d'accordo? Più che d'accordo, siamo messi male, male, male e quindi è più che giusto riaprire, riaprire e riaprire. Coprifuoco da eliminare, però giustamente come dice l'amico, controllate. Perché qua non si vede più una pattuglia. Ste pattuglie fanno servizio solo ai ristoranti e ai bar. Non c'è più il controllo, non ci sono. Per qualche verbale, cioè qui devono controllare le persone, chi non ha la mascherina. Siete felici pian piano di tornare alla normalità? Assolutamente sì, assolutamente sì, non vediamo l'ora, anche forse un po' poco ancora, ma siamo fiduciosi che la cosa possa andare meglio e migliorando. Si potrà uscire un'ora in più la sera, cenare magari anche al ristorante con più tranquillità? Sì, certo, e non vediamo l'ora perché le restrizioni sono state troppo pesanti. Quindi c'è voglia di uscire e anche di spensieratezza. Stiamo passeggiando in effetti. Siete d'accordo con questa misura che è stata presa? Deve essere abolito secondo voi del tutto? Per me sì, per forza col tempo per forza dovrà essere abolita questa cosa. Già un'ora in più è un contentino che ci hanno dato, però all'estate la gente è stanca, quindi per forza di cose o con o senza la gente si stuferà. C'è voglia di uscire? Assolutamente sì, soprattutto per noi giovani stare chiusi in casa è stata veramente dura, quindi si spera di ritornare alla normalità il prima possibile.